Musica Salve a tutte ragazze e ragazzi oggi sono qui con un nuovo video ed è un tutorial oggi vi farò vedere come ho fatto questi tatuaggi, in realtà questo qua è un metodo molto popolare per ente tutte le youtuber, tutti gli youtuber l'hanno provato ed è semplicissimo, vedrete come si fa questo qua è invece un metodo che utilizzavo io prima di scoprire questo con questo metodo potete fare dei tatuaggi comunque molto più elaborati molto più colorati, però poi sta a voi comunque decidere quale dei due vi piace il primo metodo appunto lo provo con voi per la prima volta quindi è uscito un po' uno schifo però perdonatemi, perdonatemi e invece il secondo anche è uscito uno schifo, anche se non è la prima volta che lo faccio e vi assicuro che molte altre volte sono uscite anche meglio se avete delle penne in gel che scrivono bene e sono durature, uscirà ancora meglio quindi spero che il video vi piaccia iscrivetevi qui sotto qui sotto ed andate a vedere i miei scorsi video, vi lascio, ciao ciao! 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 ciao!